C'è qualcosa che possiamo fare per Adelina, a suo parere? La situazione è molto complicata, peraltro io non ho elementi in questo momento sul tavolo che possono aiutarvi a trovare una soluzione. Ecco, ci metto la faccia e ascolto il problema, però io non so né che tipo di permesso di soggiorno ha avuto la signora, se era quello per professione speciale, se ne ha adesso uno per cure mediche. Speciale, speciale, esatto. Esatto, ok, quindi quello può essere rinnovato, dipende da una commissione tecnica locale e dalla questura. Poi c'è quello per le cure mediche, a me è quello che adesso interessa, perché in tutto questo problema la signora ha una neocresia seria e deve essere curata, quindi prima cosa diritto alla cura e questo glielo dobbiamo garantire, punto, perché la signora così come ha lottato e ha messo a repentaglio la sua vita per far arrestare 30-40 persone e ora purtroppo ha un nemico che deve vincere, quindi il nostro compito è aiutarla a vincere questo nemico. Per il resto, ecco, già mettendoci la faccia, credo che aiuta a sensibilizzare quelli che sono gli uffici, le burocrazie varie a una risoluzione del problema, che però purtroppo io non conosco fino a fondo ed è chiaro che è un problema molto molto complesso. Allora io direi questo, Sileri, per essere concreti, noi continuiamo a seguire la storia dell'Adelina, dal punto di vista del Ministero degli Interni ci muoviamo noi, dal punto di vista delle cure, forse se possiamo essere tranquilli e sicuri che lei venga curata nel migliore dei modi, caso mai poi le faccio avere un po' di riferimenti e cerchiamo di seguirla assieme, perché non vorrei per nessun motivo abbandonarla, ecco, questo è il problema. Senta, Sileri, ho bisogno di fare qualche domanda, la ringrazio che è stato qui con noi. Io intanto ti ringrazio, ma voglio dire che in questo momento le uniche persone che mi stanno sono i carabinieri di Pavia e le loro moglie, ringrazio anche l'albergo dove sto qui a Roma perché mi ha dato da mangiare, perché non avevano neanche i soldi, perché io ho chiesto soldi per venire a Roma, perché mi hanno sospeso tutto quanto. E poi un'ultimissima cosa, io ho una lettera del nostro Ministero dell'Interno, io dico nostro, perché io mi sento italiana nell'animo, nel cuore e in tutti i valori, credo fortemente anche nella bandiera italiana. Il nostro Ministero dell'Interno italiano dice che la perdita della finanza italiana è avvenuta nel 1990 per effetto della genitrice della sua mamma, che ha convolto anche la sua situazione, perché però potrebbe essere richiesta, riacquisita per via richiesta, richiesta che io non farò neanche morta perché ho paura. Intanto voglio ringraziare alcune patuglie pure della polizia che mi hanno aiutato qui a Roma, però non loro, non hanno poteri. Ringrazio tantissimo a te, mi metterei anche in ginocchio a ringraziarti. Ma non ti vedevi ringraziare, però è una grandissima giornalista. Non c'è bisogno. Aiutami Mirta perché io sono venuta lì, io sono venuta esclusivamente alla 7 proprio perché potevo andare in un'altra parte. Sono venuta nel tuo programma lì di fronte da te perché credo fortemente che tu sei una grande giornalista, una grande donna sensibile. Adelina, stai tranquilla, noi non ti molliamo, c'è la mia squadra che capisce meglio le cose, cerchiamo di darti una mano, te lo prometto, questo guarda puoi fidarti. Invece, scusi, silenzio.